Il decreto varato due giorni fa dal governo a sostegno dell'emergenza che sta vivendo il centro Italia in soli due giorni ha provocato un vespaio di polemiche in Abruzzo. Già perché in molti si aspettavano misure per il sostegno alla popolazione colpita a metà gennaio dall'eccezionale ondata di maltempo ed invece, almeno dalla bozza di decreto e dal comunicato stampa di Palozzo Chigi, ci sono solo interventi per il post-sisma e un ristoro per allevatori e agricoltori. Troppo poco, secondo il centrodestra, che con il deputato Fabrizio Di Stefano annuncia una valanga di emendamenti all'atto del passaggio in Parlamento per la conversione in legge del decreto. Può esistiamo che il Presidente si dice soddisfatto. Io ricordo a me stesso che una delle sue proposte principali era la zona franca che non trova traccia, ma al di là della zona franca non si trova traccia di interventi a sostegno degli enti locali che hanno dovuto affrontare spese ingenti, se non l'emergenza, l'emergenza che era con i primi 30 milioni di euro che avrebbero dovuto essere seguiti dal decreto conseguenziale. Credo che con 30 milioni neanche Teramo o Chieti riescono a coprire le spese e i danni che hanno avuto. Di Stefano critica le dichiarazioni di D'Alfonso che si è detto soddisfatto delle misure governative ed invita il Governo regionale e nazionale ad occuparsi in maniera stringente anche dei disservizi di Enel, Terna e Telecom al fine di ottenere i rimborsi maggiorati rispetto a quanto previsto dalla legge. Io voglio capire, ma su questo ci torneremo dopo che avremo capito il decreto, io voglio capire cosa fa il Governo regionale e nazionale nei confronti di queste strutture che hanno avuto una carenza dannosa per il tessuto sociale ed economico della nostra regione. Quindi qui occorre non il risarcimento dei danni come previsti da bolletta da 600 a 3 mila euro, ma qui occorre un'azione decisamente molto più forte e molto più netta. Il centro-sinistra affida la replica all'onorevole Gianluca Fusilli. Nella nota il deputato chiarisce che i risarcimento per i danni derivanti dal maltempo di gennaio sono stati inclusi nella delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio scorso con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, come già accaduto con l'emergenza maltempo del marzo 2015. Nella delibera sono stati riconosciuti tutti i danni diretti a cose pubbliche e private che abbiano un rapporto di causa-effetto con il maltempo. Per i danni indiretti invece si attende una quantificazione oggettiva.